il panteon ovvero la casa di tutti gli dèi in tempo romano quando fu costruito da agrippa nel 27 avanti cristo e ricostruito da adriano intorno al 124 di cristo oggi il panteon nella piazza della rotonda di roma e tempio cristiano dedicato a santa maria a de martires un tempio di architettura cilindrica genio di ingegneria romana dei tempi dell'impero tempio di perfezione la perfezione propria della forma sferica della pianta e dell'oculo della cupola che dai suoi 9 metri di diametro proietta la luce del sole sul pavimento circolare questo tempio gloria della roma antica il 13 maggio del 609 divenne la casa dei martiri cristiani le cui ossa furono traslate nella chiesa per volontà di papa bonifacio iv che l'anno prima aveva ricevuto in dono la chiesa dall'imperatore bizantino foca cristiani le cui ossa furono traslate nella chiesa per la prima parte Grazie a tutti. Grazie a tutti.